Il corso di tecnologia per tecnici cartari, che è organizzato all'interno dell'Istituto Salesiano San Zeno di Verona, è organizzato in 15 settimane formative presso l'Istituto, intervallate da 5 settimane di stage, con obiettivi comunque ben precisi, che sono organizzate o all'interno delle cartiere in cui i giovani già lavorano, o all'interno di aziende che verranno selezionate prima dell'inizio dell'attività. I docenti che si alternano al corso sono più di 30 e quasi tutti loro provengono dalla produzione di cartiera o lavorano come tecnici all'interno di aziende di servizio della filiera. Questo ci permette di avere contenuti costantemente aggiornati e di poter divulgare informazioni relative alle ultime tecnologie del settore. Durante le settimane di presenza a Verona sono inoltre previste una serie di attività di visite ad aziende che sono state selezionate in maniera specifica per avere quindi gli obiettivi mirati da raggiungere. Se volete maggiori informazioni sui contenuti del corso, sulla sua struttura e su ipotesi di visite tecniche, vi consiglio di andare a trovare queste informazioni sul sito sanzeno.org nel menu Formazione Superiore.